Entra nel mondo l'olato, da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantarie e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Il primo lungo ponte di questa primavera 2024 si avvicina. Ebbene, il tempo ci riserverà ancora un po' di instabilità e il clima non sarà proprio mite. Vediamo il dettaglio di mercoledì 24 aprile. Sul Veneto condizioni di variabilità con cielo nuvoloso ma con qualche schiarita. Saranno probabili precipitazioni a tratte diffuse e a tratti discontinue. Limite della neve intorno ai 1400-1500 metri. Temperature con andamento piuttosto irregolare, minime tra 5 e 7 gradi, massime tra 10 e 14 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui molte nubi con rovesci o temporali sparsi. Sulla costa soffierà vento moderato di bora. Temperature minime sui 5-7 gradi, massime intorno ai 10-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove non mancherà qualche schiarita alternata ad annuvolamenti e con locali piogge. Temperature minime sui 7 gradi, massime intorno ai 14-15 gradi. Dal Meteo di Antenna 3 è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, Atreviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.